C'è anche Praia tra le cento città che lottano contro il dolore cronico. In tutto questo bel casino che travolge il presidio zonale per chi lavora costantemente al servizio del cittadino con turni massacranti e sacrifici di ogni genere, questa opportunità è senza dubbio un bel riconoscimento. Forse più di una targa o di una coccarda, l'evento è promosso dalla fondazione Isal ormai da qualche anno. Il suo obiettivo è informare la cittadinanza sul dolore cronico e sulle molteplici terapie per contrastarlo. Il distretto sanitario del Tirreno Cosentino è presente con la sua struttura. È iniziata in Italia ma adesso ci sono anche altri centri sia europei che mondiali che partecipano alla manifestazione 100 città contro il dolore. È una manifestazione prodotta dalla fondazione Isal che è un istituto di ricerca per la cura al dolore cronico. La manifestazione si prefigge, è chiaro, il compito di divulgazione sia scientifico che culturale della lotta alle patologie dolorose croniche. Quindi fra le patologie dolorose croniche, voglio sfatare il mito perché si pensa sempre che la terapia del dolore è indirizzata ai pazienti oncologici, solo forse un 15% dei nostri pazienti sono affetti da patologie tumorali, in realtà il dolore cronico comprende tutte quelle neuropatie, per esempio la neuropatia diabetica, la neuropatia vascolare, oppure le radicolopatie, i dolori da ernia del disco, quello che viene comunemente chiamato il fuoco di Sant'Antonio, il capitolo molto ampio delle cefalee. Quindi ecco c'è un'ampia gamma di patologie che si possono annoverare fra quelle affette da dolore cronico. Il dolore cronico non è più considerato un sintomo o una malattia, quindi è giusto che venga curato, che venga curato con appropriatezza diagnostico-terapeutica e soprattutto nei centri giusti laddove non si può trovare subito una risoluzione al problema della patologia. Il servizio di terapia del dolore di Praia a Mare si occupa proprio di questo. La giornata a cui facciamo parte serve proprio a informare i cittadini delle possibilità di cura che ci sono vicino casa e nella nostra regione. Accedere al servizio è molto semplice. Si accede al servizio con l'impegnativa del medico curante, quindi con la semplice ricetta rossa in cui viene segnato visita algologica e per i pazienti che non sono trasportabili si può richiedere la visita algologica a domicilio per pazienti non trasportabili. Quindi cerchiamo di supportare anche quei pazienti che necessitano di un intervento al proprio domicilio. E per chi volesse saperne di più, ecco gli appuntamenti da non perdere. Sì, nell'ambito di questa settimana che per noi è partita il 26 perché siamo con uno stand presso l'ufficio ticket del CAPT con materiale informativo per la popolazione. Domani 29 alle 14 nella sala conferenze del CAPT ci sarà un incontro aperto a medici e infermieri ma non solo agli addetti ai lavori. Aspettiamo soprattutto la popolazione in cui si parlerà proprio delle possibilità di cura del servizio, di che cos'è la terapia del dolore e soprattutto che cos'è questa manifestazione importante a cui Praia partecipa. 100 città contro il dolore. Giorno 1 ottobre invece che è la vera giornata mondiale della lotta al dolore cronico. In concomitanza con tutti i 135 centri che partecipano alla manifestazione saremo in piazza sul corso principale nei pressi della chiesa dalle 10 del mattino alle 19 di sera con uno stand e con i volontari che voglio ringraziare dell'Associazione Sanità e Vita che ci supportano sempre dall'inizio del servizio e che davvero hanno sposato la causa della lotta al dolore cronico. Ci saranno loro, ci saranno infermieri e ci sarò io che sono il responsabile del servizio per dare risposte ai pazienti. Vuole essere un abbraccio alla popolazione, dire che i medici ci sono, i servizi ci sono e noi vogliamo proporli alla gente.